Comunque se e soprattutto evidentemente ribadisco se Cristiano Giuntoli dovesse riuscire a fare questa cosa che tra le altre cose palesemente la volontà della Juventus per quanto sia difficile ecco sarebbe la prima parte di una statua che si meriterebbe a mani basse qualora dovesse fare nei prossimi due mesi e mezzo un calciomercato allucinante. Quanto è facile questa cosa in una maniera molto razionale poca poca ma che allo stesso tempo appunto è palesemente la volontà della Juventus e prima di entrare nel merito ragazzuoli come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace così per stare dalla parte del sicuro perché non guasta veramente mai e mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché insomma i prossimi giorni ma le prossime settimane i prossimi mesi e si spera anche perché no i prossimi anni saranno no belli corposi belli sostanziosi quindi non si sbaglia mai è un piccolo supporto gratuito un click ci siamo capiti. Detto questo è stato di fatto il video di Romeo di ieri a darmi lo spintone finale per la realizzazione di questo video anche perché sinceramente io a questa dinamica non ci credevo non ci credevo proprio per nulla e si parla appunto della questione legata ai portieri perché dopo che era stato detto e sembra anche quasi sempre più certo che di fatto il primo acquisto dell'estate sarà a tutti gli effetti Michele Di Gregorio per 18 milioni più 2 di bonus un pochino tutti quanti abbiamo pensato no vabbè va via Perin Di Gregorio magari farà il suo importante numero di partite come d'ambientamento poi vedendo che il contratto di Cesni è in scadenza il 30 giugno 2025 per la stagione 2025-2026 Di Gregorio diventerà il portiere titolare della Juventus. Ecco solo che alla continassa non sono proprio di quest'idea anzi non sono per nulla di quest'idea perché già dopo la notizia di questo accordo praticamente ufficioso tra la Juventus e il Monza per il giocatore ha preso sempre più piede l'idea che ad onor del vero la volontà della Juventus non è quella di vendere Perin per dare la passerella finale a Wojciech Cesni prima di un ipotetico ritiro o comunque addio alla maglia della Juventus no no sembra proprio che in realtà la volontà della Juventus sia quella di liberarsi del polacco dove attenzione qui uno può essere favorevole o meno dal punto di vista umano dal punto di vista tecnico sinceramente Cesni lo considero un mio padre calcistico quindi figuriamoci qualora dal mio punto di vista Cesni dovesse rimanere alla Juventus alzerei le mani alzerei le mani d'altro canto però in un'ottica societaria che va anche no sempre più verso la direzione dell'abbattimento dei costi e compagnia cantante è giusto dire che quando si parla di Wojciech Cesni si parla del secondo giocatore più pagato della rosa della Juventus proprio perché appena dopo Dusan Blauvic c'è lui che percepisce 6 milioni e mezzo netti onestamente anche da qualche anno a questa parte quindi ci può anche stare soprattutto qualora la Juventus e il prossimo allenatore della Juventus vedano in Di Gregorio il portiere perfetto oltre che comunque vincente dell'ultimo MVP della Serie A per quanto riguarda i portieri miglior portiere della Serie A 2023-2024 anche per quelle che sono le sue caratteristiche tra virgolette fuori dai pali l'utilizzo dei piedi spesso e volentieri in maniera ottimale un mediano anzi un difensore centrale ancor più arretrato che imposta soprattutto se pensiamo all'idea di calcio di Tiago Motta avere un portiere particolarmente abile con i piedi non è una cosa così tanto malvagia è che infatti sta sempre più prendendo piede in realtà questa cosa che Di Gregorio non sarà il secondo portiere per la prossima stagione l'idea è proprio quella di di farlo giocare titolare ed è qui che ovviamente capisci il perché la volontà della Juventus sia un pochino più proiettata sul vendere Cesni piuttosto che Mattia Perin poi però c'è anche l'aspetto un pochino più razionale perché da un lato c'è un giocatore di che cos'è 34-35 anni quando si parla di Cesni che prende appunto 12 milioni e passa a Lordi dall'altra parte c'è un 31enne come Mattia Perin che ne prende un e mezzo quindi a livello di attrattività diciamo che ha il giocatore viene da sé che è molto più probabile che possa essere Perin quello in grado di attrarre più club anche perché probabilmente è anche quello un pochino più indirizzato verso un'uscita a differenza di Wojciech Cesni che di fatto ha detto guardate a me piacerebbe ritirarmi con la Juventus alla scadenza del mio contratto quindi insomma fate un pochino Vobish a me tutto sommato questi 6 milioni e mezzo alla continascia li prendo ben volentieri anche nell'arco della stagione 2024-2025 ed è qui che obiettivamente serve un miracolo per Giuntoli se davvero vuole riuscire nel suo intento perché proprio a livello razionale non vedo come sia plausibile uno scenario di questo genere e occhio anche alle tempistiche in tutto questo occhio alle tempistiche perché sì va bene si parla di tre giocatori in scadenza il 30 giugno 2025 quando si parla dei portieri della Juventus ma Pinsoglio lo lascerei decisamente fuori da questo discorso con tutto il bene del mondo però che cos'è? adesso quando ufficializzi di Gregorio e soprattutto per liberare lo spazio per il portiere se devi aspettare magari anche la volontà di Scesni è molto probabile che tu debba aspettare la fine degli europei mentre invece magari per quanto riguarda anche lo stesso Mattia Perin è un pochino più facile pensare che nell'arco proprio di questi giorni, queste settimane il suo entourage possa essere già al lavoro per trovare soluzioni per la prossima stagione e se magari ti dici no la mia volontà è quella di tenere Perin e darvi a Scesni con già di Gregorio Presio ma allo stesso tempo non ti arrivano offerte per Scesni e come fai? obiettivamente come fai? non è proprio semplicissima sinceramente questa qui come come dinamica che ribadisco a me qualora Scesni dovesse rimanere andrebbe benissimo è un portiere che io l'adoro è un portiere che nelle ultime due stagioni probabilmente una ventina di punti te li ha garantiti solo lui con i suoi miracoli questo va detto però dall'altra parte c'è l'aspetto dirigenziale dove se tu dici dobbiamo ripartire anche proprio dal portiere perché ci serve un portiere con caratteristiche fuori dai pali che evidentemente hanno intravisto in Di Gregorio ci sta che tra gli altri tre che attualmente hai cerchi di dar via quello che prende di più che in tutto questo è il secondo che prende di più nell'intera rosa solo che se parli di un 35enne che ha già detto che vuole rimanere da te per salutare tutti il 30 giugno 2025 sinceramente non lo so ed è qui che serve un miracolo di giuntoli magari Scesni è anche una persona estremamente razionale dove se ti siedi ad un tavolo e gli fai capire quella che è la situazione magari non è che ti si impunta non è che ti si mette contro quantomeno è una percezione che ha avuto così nei confronti del ragazzo però sicuramente la situazione non è semplice non è per nulla semplice e quindi personalmente quello che mi aspetto io è un Di Gregorio che si alternerà molto con Scesni ed un Perin che lascerà anche se la volontà della Juventus è esattamente il contrario voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve